Claudio Bellucci, ex giocatore di Serie A, è il nuovo allenatore dell'Arezzo. Romano, 42enne, ex attaccante della Sampdoria e del Bologna, ha la prima vera esperienza alla guida di una squadra professionistica, fino adesso infatti si è occupato del settore giovanile. L'Arezzo non ha guardato solo e esclusivamente alla categoria emergente, ha guardato alla persona che potesse suscitare in me, nella proprietà, e in Roberto Gemmi quel qualcosa che noi andavamo a cercare. Credo che ad oggi il mister rispecchi la totalità di quello che noi vogliamo nell'allenatore e abbiamo preso la decisione di prenderlo. Sicuramente, come molti pensano, non ha l'esperienza. Se guardiamo, ce n'è pochi che all'inizio hanno esperienza in Lega Pro. Se io faccio conto a Conte, quando è venuto ad Arezzo, era forse la prima panchina in cui sedeva dopo aver fatto l'allenatore. In Serie B, in una panchina importante, insomma, dove è arrivato non ha bisogno di proclami. Quindi auguro al mister veramente le migliori fortune che possa dimostrare quello che secondo noi vale. Si aggiungono quindi nuovi tesselli tecnici della stagione 2017-2018. Già individuato anche il vice allenatore, si tratta di Elvis Abruscato. Il prossimo passo sarà quello di costruire la squadra che partirà il prossimo 17 luglio per il ritiro di Chianciano. Diciamo che da lunedì iniziamo a rendere noto quelli che sono già gli accordi che noi abbiamo fatto. In questo momento stiamo lavorando su tanti fronti, quali anche quelli che hai citato te. Però oggi non c'è nulla di concreto, bisogna dimostrare poi con i fatti. Lasciamo poi, giustamente come è un po' il live motiv della situazione, meno chiacchiere più fatte. Quindi giustamente una volta che hanno apposto la firma nel contratto sarete prima a saperlo.